Guagnona! Ah, Don Giornale, voi non c'eravate? Voi sono un ottimo cliente, bevite, bevite. Non vi preoccupate, bevite. Ma che schifezza è che... Ma che state dicendo che lo Pepe fa benore e lo pepe? Ma qua Pepe, Pepe, che sta merda! Mannazzo! Ma non muo' essa? Ma avete un guaiato stoppato? E chi è sto curruto che non mi ha fatto sto fatto? E a me non mi servite. Datemi una doppia porzione da 2.000 lire. Mi devo rifare la bocca. Eh, sì, fatta la bocca, dì. Fatta la bocca, questa combattia. Ma non la rubi la città, ma non la passate. E la pulita per te, o no? Ma io non so come lo fai, un marito a poggio reale, hai capito? Che si è scordata, che viene la confezionata, sì. Ma che ciupi la moglie, ma che c'è la città, dì. Ma, mangi da capo la bocca. Ehi, stoppere! Ma tu che stai a fallo? Che buona sparta, roba! Ma chi ha già sparta, se il tuo marito non lo venga proprio? Perché se lo prese, la testa su e arrestà! Bravo! Avete fatto la parte vostra, eh! Ma adesso ve la vedete con qualcun altro più grosso di me! A te te la giù, miser mo'. A esse ciumetto, vatten! Vatten! Ma no! Ma no! Ma no! Ma no! Uh!